Un successo che si ripete ogni anno grazie a un'idea nata quasi 30 anni fa da alcuni membri del fotoclub La Chimera. È quello di Foto Antiquaria, una mostra mercato per le macchine fotografiche d'epoca che si svolgerà sotto le loggi vasari di Arezzo domenica 27 aprile. Sono 50 gli espositori attesi per la manifestazione più longeva d'Italia nel suo genere e apprezzata anche a livello europeo. Le novità ci sono sempre perché chiaramente le attrezzature digitali prendono sempre più campo e quindi diciamo che è una fiera antiquaria che si svolge da circa 30 anni che però chiaramente si deve rinnovare. Come di consueto sarà possibile fotografare una modella accompagnata questa volta da alcuni atleti del centro Taekwondo di Arezzo che si esibiranno in dei combattimenti da catturare a colpi di clic. Sarà possibile inoltre visitare le mostre fotografiche Sprazzi di memoria, una rassegna che raccoglie le vecchie foto dell'archivio storico del fotoclub La Chimera e Arezzo 2013 Immagini per il futuro, la mostra nata per fissare le immagini del 2013 in modo da tramandarle ai posteri. Anche quest'anno ci saranno una modella da fotografare, ci saranno una bella selezione di macchine d'epoca, ricambi di gente appassionati che non trovano più pezzi nei negozi, ormai si trovano solo in questo tipo di mercati.